amici di inter tv.it bentornati da Michele Borrelli alle video news e bentornato a Luca Barbesta ciao Luca ciao Michele esperto di economia di marketing e quindi possiamo approfondire con te un discorso che sta tanto a cuore ai tifosi dell'Inter tutti i tifosi di tutte le squadre così vogliono sapere l'acquisto e sono contenti se arriva l'acquisto i tifosi dell'Inter non sono contenti se non arriva l'acquisto se arriva l'acquisto vogliono così fare i conti nelle tasche del presidente allora si dice ma se l'Inter deve rispettare i parametri come fa a comprare adesso un giocatore in difesa una centrocampo in un attacco anche di una certa importanza allora calcoliamo un po' quale può essere questo tesoretto di partenza in base alle cessioni allora Ricky Alvarez c'è una questione in sospeso col Sander però le carte danno l'Inter si le carte parlano quindi saranno comunque saranno un cash magari non sul totale di 12 milioni e 5 saranno su 10 11 si sarà anche 10 c'è mai che obbligo di riscatto perché il non è andato in serie a e siamo a 13 e siamo a 13 poi c'è benassi 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 si c'è una situazione in sospeso col Torino si rischiano le buste ci si potrebbe mettere d'accordo su due mezzo 3 a 3 a 3 a 3 diciamo che possono essere altri 3 milioni arriviamo a 16 schelotto altri 3 milioni schelotto c'è il discorso anche zucanovic che potrebbe essere inserito potrebbe essere separato e quindi potrebbero essere un paio di milioni diciamo 18 poi c'è il caso di Pereira che ha il riscatto se arriverà a certe presenze il suo pubblicatore ha parlato e dice che anche alcune squadre europee sono interessate lui si rimetterebbe in gioco nell'ultimo anno di contratto all'Inter c'è il 15 16 o all'Izzo al Galatasaray si parla di tante squadre arriveremo a superare i 20 sì arriveremo a un 4 milioni per era quindi saremo sui 21 22 poi andiamo anche però a vedere nella rosa dell'Inter Andreolli Andreolli possono essere 3 4 milioni 4 milioni Nagatomo siamo a 25 Nagatomo anche un po' meno se si vuole fare caso Paio 2 3 comunque li porti a casa sono interessate allo Schalke squadre tedesche francesi West Bromwich Albion Lille la stessa Samp si diceva che forse in un pacchetto lì c'era anche la questione dell'offerta per Eder ma sembra che non sia la priorità però diciamo arriveremo a 26 27 poi c'è Guzmanovic il Bologna 2 o 3 manca qualcosina sui 3 e mezzo si arriva comunque a 30 poi c'è Obi che è cercato da tante squadre anche in Bundesliga tedesche soprattutto e si parla di 4 5 milioni perché comunque è giovane Obi comunque rimane essere comunque giovane poi nella rosa dell'Inter chi ci può essere allora siamo arrivati a una trentina diciamo se già bisogna essere bravi però alcuni abbiamo visto garantiti diciamo una ventina garantiti 30 se si è bravi anche però ci siamo tenuti molto bassi anche perché non abbiamo elencato lo stesso Ranocchia lo stesso Jesus siamo rimasti su quelli di molto defilati poi c'è il risparmio dell'ingaggio di Podoschi di Campagnaro di Jonathan di Felipe sono tutti giocatori che comunque sì anche perché se non dovesse partire Nagatomo ma dovesse partire Nagatomo Andreoli ma dovesse partire Jesus comunque cioè ci sarebbe un ricavo più alto perché Jesus comunque è più giovane se non dovesse partire Andreoli ma alla fine Ranocchia sarebbe un entroito più alto rispetto a comunque Andreoli perché Ranocchia ha un livello anche in nazionale più alto il rinnovo del contratto ormai è un passo quindi ricapitolando 20 garantiti 30 se si è bravi se l'Inter vuole prendere continuiamo a mantenerci altissimi 2 top player Miranda sui 15 valore parlo parliamo proprio del massimo Condobbià 35 e Jovetic col prestito e il diritto di riscatto pagato l'anno prossimo comunque a rate diciamo che servono per arrivare al top 50 partiamo da 30 ecco qui si capisce perché potrebbe si potrebbe virare su Inboulà che sono proprio quei 15 milioni in meno rispetto o forse anche qualcosa in più a Condobbià per già rientrare nel nel novero però non si può fare oggi il passo più lungo della gamba di questi 20 milioni 25 per poi vedere durante il mercato se arriva l'offerta per Guarin se arriva l'offerta per Ranocchia per Juan rischi di essere presa la gola però dagli operatori male che va da tutto ad agosto c'è di Kovacic sì ma rischi di essere presa la gola nel senso che l'operazione migliore l'operazione senza rischio è quella che hai detto poco anzi nel senso Inboulà ti porta un'uscita di più 5 milioni che sono sanabilissimi in un attimo c'è un giocatore di quelli in che senso? ah 5 tra tutta l'entrata e l'uscita l'entrata e l'uscita perché c'è un giocatore tipo Jesus alla fine del mercato ora a Nokia i 5 milioni li hai già ripianati ripianare 15-20 in più Condobbià stai rischiando stai rischiando perché devi fare prima la cessione eccellente che può essere comunque o Hernanes o Kovacic perché comunque non scordiamoci che Hernanes sul mercato vale ancora 13-14 milioni perché è un giocatore che comunque ha fatto un finale di stagione stupendo cioè diciamo che è proprio il capolavoro alla Bonazzoli che l'Inter non ha perso ed è riuscita a superare il Milan su Brozovic sarebbe questi 50 spacchettarli in cash più contropartite che non siano Kovacic che sta cercando di farlo l'Inter però non è facile per niente non è facile perché comunque devi incastrare più fattori perché non viene da una grande stagione ma devi incastrare più fattori devi incastrare la volontà del giocatore del giocatore che deve andare in un'altra piazza gradita con uno stipendio diverso magari da quello che ha Milano perché se si parla di Hernanes Hernanes prende 3 milioni a Milano Vidic prende 3 milioni Guarini prende 3 milioni quindi diciamo che le probabilità che Hernanes vada in una squadra tipo il Monaco per esempio di cui si era parlato con Gondobbia a 3 milioni sono pochissime anzi quasi nulle ma soprattutto perché il Monaco dovrebbe accettare una contropartita così cara ma soprattutto vendi un ventenne per prendere un trentenne e rinunci a 20 cash di differenza e in più hai uno stipendio più alto rispetto al ventenne che hai ma non solo parliamo di Guarini Guarini prende 3 milioni non di Fenerbahce 3 milioni neanche di Pinto gli può dare quindi scendere da 3 milioni a 2 quando sa di essere nelle grazie di Mancini è impossibile questo è il quadro però alla domanda famosa dei tifosi ma Tohir perché non ci mette del suo chiariamo anche questi due aspetti uno il programma dell'Inter di Tohir per come sta gestendo l'azienda diciamo Inter anche se è un termine magari improprio per il calcio e quella di crescere per rimanere poi stabilmente a livello di fatturato in una certa cerchia di società che possono come il Borussia come scusate il Borussia il Bayern Monaco il Manchester United cioè chiudere i bilanci sempre inattivo cosa che in Italia forse non è mai successa però è un progetto ambizioso che punta a quello e secondo il fatto che la UEFA ti sta dando delle sanzioni lo hai concordato quindi se l'Inter oggi perché dice Tohir vabbè la mia famiglia mette 50 per condobbià sbanca il mercato voglio fare così come ha sempre fatto Moratti la UEFA direbbe ma scusate ma ci avete detto delle cose ma non funziona così la testa di uno straniero nel senso questo è un mercato che funzionava solo in Italia all'estero comunque bisogna metterlo in testa il calcio è visto anche da Tohir come passione ma è anche business è una società deve andare avanti con le proprie gambe nel senso è un business sano possiamo dire così business sano perché se tu crei una società sana ma poi c'è chi si allea con i fondi e lì avrai delle remore se però tu crei una società sana la società sana in pochi anni è in grado di prendere questi giocatori senza un esborso diretto da parte del presidente perché se dobbiamo avere uno sceicco che viene e ti mette 150 milioni per il mercato poi però domani può andare via bravissimo falsa tutto quello che è il creare il progetto di una società che in futuro può fare senza questo sceicco cioè per renderla proprio terra terra quando Moratti due stati fa diceva è il momento del collegio per dare delle regole ferre perché ci dobbiamo mettere a posto sia a livello di struttura societaria era per creare questo ecco e la metafora è come se nel momento in cui ti danno delle regole o sei nel collegio tu dici vabbè dai però stasera non rispettiamo le regole usciamo lo stesso dopo la mezzanotte cioè sarebbe e tra l'altro ripeto io insisto molto su questo cioè l'Inter ha concordato con la UEFA cioè la UEFA non capirebbe perché il cambio dell'allenatore era stato comunicato adesso la UEFA non capirebbe un mercato con meno 100 anche quest'anno quindi ausilio deve fare di necessità virtù e andare su quel filo sottile che abbiamo un po' spiegato delle trattative io credo che comunque tutto il bando della matassa gira sulle cessioni gira giri intorno a Kovacic nel senso che la società ha visto l'affetto che i tifosi hanno verso questo giocatore la società è molto incline verso i tifosi in questo caso perché questa società ha capito che è il tifoso che fa business per la società le manifestazioni di affetto di Kovacic per me hanno comunque avuto un ascolto in società però comunque si sono divisi 50 e 50 i tifosi stranamente perché noi siamo 50 e 50 nel caso di un acquisto di un top player tipo Condombia attenzione nel senso che sacrifico però arriva quello il sacrificio gratis gratis così non è stato ben preso possiamo dire così semplificando che la scelta difficile al di là di tutti gli altri incastri mi rendo conto che è molto semplificata e se vuoi un altro un po' come è stato con Coutinho c'è di 92 per prendere il 94 che era Kovacic adesso per prendere Condombia forse l'unica strada alla fine stringi stringi soprattutto a giugno è il sacrificio di Kovacic a meno che non rientra poi venite se si dice che voglia Icardi e lì salterebbe tutto il banco nel senso che se arriva un'offerta strepitosa per Icardi va parte se arrivano 70 milioni 60-70 parte e lì devi andare a prendere sinceramente parlando io adoro Icardi per me è il futuro ma quelle cifre la società non può permettervi questi trattamenti però diciamo che le premesse fatto questo il quadro sono abbastanza incoraggianti per quello che possono essere gli sviluppi anche perché già sul difensore stiamo iniziando a mettere il primo tassello e anche lo stesso Jovetic che ha diciamo un corteggiamento di vecchia data dall'Inter i giocatori se le ricordano queste cose quando hanno la fiducia dell'allenatore da Mancini stesso e credo che Jovetic possa arrivare con la stessa formula in cui è arrivato Shaqiri con cui è arrivato Shaqiri quindi la dilazione del pagamento io credo che Jovetic sarà una trattativa successiva al centrocampista e al difensore e sarà una trattativa molto più tranquilla anche perché non è un titolare delle due mani non è nei primi 15 diciamo ha fatto molta tribuna il ragazzo vuole giocare e Pellegrino non lo considera un top player noi lo facciamo giocare quindi credo che potrà arrivare tranquillamente in una trattativa non molto difficile anche perché gode delle simpatie di Mancini e il giocatore adora Mancini ecco questo è il quadro credo che arrivò per Mancini un quadro abbastanza dettagliato sugli equilibrismi che dovrà così vivere Piero Osilio questa estate però si prospetta un Inter come promesso dalla dirigenza ma anche dello stesso allenatore rinforzata dal mercato e veramente ci auguriamo che sia così naturalmente continueremo a seguire giorno dopo giorno le trattative grazie a Luca Barbesta grazie interisti rilassatevi rilassatevi come dice il comunicato della curva a presto anche da Michele Borrelli un saluto e seguite sempre le nostre trasmissioni